La sanità è ancora campo di scontro tra nord e sud. Se i costi standard non saranno applicati da subito, siamo pronti a violare il patto di stabilità, ha detto il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, sottolineando che la sua è la regione più virtuosa, ma che la Lombardia, nonostante tutto, sarebbe penalizzata rispetto alle regioni più spendacione. Secca la replica del presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Se voi andate a fare uno studio attento rispetto alla famosa mediana che era stata ipotizzata a suo tempo dal responsabile della spending review che era a Bondi, troverete grandi sorprese, troverete che le regioni, quantomeno la Calabria, non è certamente in una posizione diversa da molte regioni che parlano così tanto di virtuosità e che magari poi erano decisamente in una condizione diversa rispetto a questi temi. E bisogna incominciare a guardare a una ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale che ad oggi penalizza le regioni del sud. Questo è un altro elemento che forse dovremmo incominciare a discutere. C'era l'impegno a suo tempo del Ministero e della stessa conferenza delle regioni che aveva chiesto ad Agenas una rivisitazione dove uno degli elementi erano proprio legati a una serie di criticità, legate proprio alla povertà e così via. E mentre qui ci propinano sempre il tema dell'anzianità della popolazione. Noi che abbiamo una popolazione più giovane dobbiamo essere penalizzati. Mi sembra una follia e mi sembra giusto mettere in campo tutta una serie di altri criteri che c'era stato l'impegno al tempo del governo e di Agenas di inserire per una rivisitazione del riparto e che oggi non c'è. Allora discutiamo anche di queste cose.